Proverò a testare questo bellissimo gioco della poltrona con mio figlio per vedere l'utilità di questo gioco Come potete notare non è molto divertente questo gioco però ti insegna ad avere un posto fisso Quindi non è molto divertente ma è educativo Il divertimento è assicurato con il gioco poltrona sedetevi con i vostri figli gioco poltrona il divertimento è assicurato Amore vedo già l'articolo di libero Chiara Ferragni e Fedez fanno leggere playboy a legione 10 anni più tardi c'è anche lui Ciao bebe Chiara Ferragni Allora fai vedere come fa il cavallo